Ciao ragazzi, bentornati al secondo appuntamento con Pact of Exile Quindi, secondo appuntamento, secondo personaggio Inizierei subito Allora, eravamo partiti col Templare e adesso utilizzeremo lo Shadow Allora, ok, Shadow Ok, fammi controllare Ok, abbiamo già tutto bello equipaggiato Le nostre armi Le nostre attacchi Siamo pronti Andiamo subito Così, ho dato leggermente fuoco Così, ho dato leggermente fuoco Ops, ho annunciato un po' troppi Frost Nova su sto gioco Questa cosa che gli diri a Torce Lo incendi, è abbastanza utile Ah, qui c'è il boss? No a mana Ah, qui c'è il boss? Ah, qui c'è il boss? l'ho incenerita e ovviamente devo cercare le pietre che mi permettono di attivare il portale per andare ovviamente non le abbiamo ancora due esplosivi comunque le torce sono utilissime soprattutto perchè questo tipo di mob come vedete sono blu quindi sono molto più potenti del normale ovviamente dovete fare qui uccidere questi e trovare le uova che servono per attivare il portale i need more pockets qui ci dovrebbe essere un altro adesso la sbrighiamo alla svetta con le nostre torce anche qui ci sono passato quindi non c'è l'oggetto che mi serve abbiamo livellato approfittare per spendere qualche punto ok ok qui ci sono sì penso che questa sia la cosa migliore sì penso che questa sia la cosa migliore ti qui questo non mi serve lo butti porta il portal scroll perfetto sembra che abbiamo trovato un'altra armettine tutte carrucette tutte carrucette tutte carrucette delle carrucette qui non ci sono spese è mazza il voto a sti prezzi cercherei il portale ma le vere dei piedi pelli grigliati mi raccomando ok tornare in città adesso abbiamo i nostri oggettini che ci servono per concludere questo però ovviamente i soliti motivi di tempo non possiamo farlo venderei due oggettini che ci chiamo dei piedi comunque abbiamo concluso una parte della quest e questo va bene è Grazie a tutti. 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 Quindi spero che vi sia piaciuto il video. Ovviamente se vi è piaciuto magari mettete un bel mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.